Abusando dei poteri connessi alla funzione di ufficiale giudiziario ha costretto un debitore esecutato a consegnarli tanniche di olio e denaro invitando inoltre la vittima a rivolgersi ad un legale suo parente. Per questo motivo un ufficiale giudiziario in servizio presso l'UNEP di Trani stamane è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Barletta con l'accusa di concussione. Le indagini delle fiamme gialle hanno permesso di mettere in luce la cattiva condotta dell'uomo che aveva anche minacciato la vittima prefigurandogli conseguenze sfavorevoli nel caso non avesse aderito alle sue richieste. I finanzieri hanno inoltre effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione dell'ufficiale giudiziario rinvenendo oltre 7.000 euro in contanti, 105 litri di olio d'oliva suddiviso in 21 lattine e documentazione informatica ritenuta di notevole importanza investigativa. L'uomo su disposizione della procura della Repubblica del Tribunale di Trani è stato rinchiuso in carcere.